Velocità fuori dai limiti, guida distratta, strisce pedonali ignorate. Il giorno dopo l'ennesimo investimento mortale sulle strade cittadine di Bari abbiamo provato a dare uno sguardo a quale sia effettivamente la sicurezza sul territorio cittadino, a quale sia l'approccio alle regole degli automobilisti, dei ciclisti e dei pedoni. Il sindaco De Caro aveva anticipato che sarebbero stati incrementati i controlli ed effettivamente la presenza delle forze dell'ordine si notava, tutto il resto invece il solito disastro. Prima cosa l'attraversamento sulle strisce pedonali, la maggior parte degli automobilisti non si ferma neanche per il passaggio di anziani e bambini, automobili e autobus sfrecciano senza rallentare neanche per sbaglio oppure quando il pedone ha già provato a impegnare la strada. Chi si avventura deve andare dall'altra parte correndo e ringraziando, quasi come se il codice della strada non gli desse già un diritto di precedenza. Le immagini realizzate questa mattina in Viale Unità d'Italia lo testimoniano. Altro gravo problema il rispetto dei limiti di velocità. In centro in particolare è stato disseminato di zone 30 ma anche in queste tranquillamente 70 chilometri orari, nella migliore delle ipotesi. Uno degli esempi è uno dei luoghi dove pochi giorni fa è stata investita una donna poi deceduta, cioè il tratto di lungomare che passa davanti alla spiaggia di pane pomodoro. Viene da chiedersi perché imporre limiti bassissimi completamente avulsi dalla realtà. Se poi non si riesce a far rispettare neanche un limite da 50 chilometri orari, l'elenco sarebbe ancora lungo. Dall'utilizzo del cellulare alla guida, la mancata chiusura delle cinghie e dei caschi, una cosa è certa, non c'è da meravigliarsi se poi ogni tanto ci scappa pure il morto.